Siamo in una buona condizione secondo me, ci sono cose da migliorare come sempre, cerchiamo di farlo in questa settimana perché la prossima partita sarà quella che conta, dobbiamo metterci a tutto lo stesso. In secondo tempo difesa a tre, tu hai giocato più alto o la di utilità puntano anche su questo? Ci sono tanti giocatori che possono ricoprire tanti ruoli, non deve essere quello il problema, cerchiamo sempre di dare il massimo e di cercare di mettere in difficoltà gli avversari. Cosa deve migliorare in vista del porto? Non te lo dico perché sennò dopo il porto lo sento. Non ho visto in un attimo. Siamo carichi e vogliamo fare bene. La partita più importante della stagione è sembrata che anche oggi la squadra pensasse alla partita della prossima settimana. No, abbiamo pensato a giocare all'amichevole, pensiamo giorno dopo giorno a mettere benzina nelle gambe per farci trovare pronti in queste due partite. Tu sei sembrato molto in forma, hai dato tantissimo, ti sei sacrificato molto, sei pronto ad affrontare una stagione intera e fare lo stesso tipo di lavoro? Siamo tutti pronti, tutti a dare il 100% per la Roma, è quello che occorre. Un pensiero super male nel Fazio che hanno avuto subito un buon impatto, soprattutto Fazio. Hanno avuto sicuramente un buon impatto, si sono subito messi a disposizione della squadra, quello era importante. Adesso starà a noi cercare di metterli a proprio agio perché sappiamo che sono i più grandissimi giocatori e ci potranno aiutare in tutta la stagione. Grazie, grazie.